Mi sono fatta di Shadush, guarda che lavoretto, mi sono fatta sto completino, questo è tutto microdulle, questo senta che testo, vuole sentire, questo ha rapa, no? Effettivamente ha rapa. Ma è rapa? Hai sentito il dottore? No, invece lui niente, niente. Cioè, almeno una volta, un po' di sesso si faceva, adesso sta sempre con cosa in mano. Ma che ci mette con cosa? No, ti ha capito, no, mi capello, no, quello l'ha visto lei, sto a due anni che ci ha lasciato, ci ha fatto come già oggi. Ciao. Ciao ne proprio.